Finisce nuovamente in carcere l'imprenditore del settore dei rifiuti Sergio Orsi, fratello di Michele, ucciso a Casal di Principe al giugno del 2008 dal gruppo di fuoco del clan camoristico dei Casalesi, capeggiato da Giuseppe Setola. A stringere le manette ai polsi di Orsi, i militari della compagnia di Santa Maria Capoetere, che alle prime luci dell'alba complessivamente hanno eseguito tra le province di Caserta e Catanzaro cinque ordinanze di custodia cautelare e domiciliari. In manette cinque indagati, tra i quali appunto Orsi, ritenuti responsabili a vario titolo di estorsioni in concorso, trasferimento e intestazione fittizia dei beni e valori in concorso, reati questi tutti aggravati dalla metodologia mafiosa. L'indagine ha consentito tra l'altro di accertare come Orsi, patron di una società del settore della gestione dei rifiuti in provincia di Caserta, tra gli anni 2010 e 2011, fittiziamente abbia ceduto le quote della sua società ad una seconda società, intestata a prestanome al solo fine di evitare la sottoposizione a misura cautelare. Contestualmente all'esecuzione dei provvedimenti cautelari, i militari dell'arma hanno eseguito otto decreti di perquisizione, nonché hanno proceduto al sequestro preventivo d'urgenza di una delle società riconducibili agli indagati. Orsi, a marzo del 2015, fu arrestato unitamente agli ex sindaci di Orta di Atella e Gricignano di Aversa, rispettivamente Angelo Brancaccio e Andrea Lettieri. Le accuse ipotizzate dai PM della direzione distrettuale antimafia in quella circostanza furono di concorso esterno in un'associazione mafiosa, corruzione aggravata e turbata libertà degli incanti.